live stavo commentando il tuo croma e mi hai fatto venire in mente quando in un'era preistorica fa un mio amico che faceva il montatore a Sky TG24 mi disse Monti ma perché non fai dei video anche tu insomma te li fai tu e io ho detto ma sentimi non sono mica a fare niente ho mai fatto un video non so nulla di nulla e lui era venuto a casa mia e mi aveva aiutato a mettere un panno verde su una cornice di un quadro e usarlo come croma e io dico ma cosa ti faccio è una tristezza no ma il croma perché lo buchi e a quel punto erano delle robe che mi sembravano da follia e il problema è che le luci sai col croma soprattutto non so magari 15-18 anni fa erano veramente merdose quindi era tutto così poi c'avevo anche i capelli ai tempi per cui era sempre un casino sto capello da un fastidio sono cambiate tante cose io ho lavorato come VFX designer e quindi ne ho bucati di green screen e di blue screen e ti assicuro che per quanto concerne il lavoro delle luci su questi pannelli il più delle volte specialmente purtroppo in Italia il nostro lavoro era correggere un green screen e un blue screen posizionati o illuminati male quindi al posto di sfruttare il potere dell'avere l'alpha il canale invisibile che ti permette di creare dei background dove di togliere i riflessi azzurri dalle facce degli attori certo quindi adesso è tutto cambiato questo è un setup da streaming che è venduto chiamato setup da streaming lo stesso concetto che ci fosse che ci possa essere un setup ufficiale per streamer è molto nuovo è molto recente come evento all'interno del mercato dell'internet prima era comprati un green screen da set cinematografico attaccalo con le spine cioè con le spille sulla parete e cerca di creare una situazione utilizzabile ma che cosa è migliorato cioè è migliorato il software che interpreta e quindi buca meglio in tempo reale è migliorato che cosa è migliorato la qualità della sposta di che cosa è migliorato ogni cosa forse l'unica realtà rimasta intonsa è il tessuto perché quello che si fa di solito tendenzialmente per bucare è o il rotoscope quindi andare a mano attraverso un tool frame by frame o comunque dei keyframe delle animazioni che si spostano nel tempo che devi comunque gestire a mano oppure il chroma key il luma key il key insomma quello che è il bucare la cromatica la luminanza e così via ora siamo arrivati al punto nel quale si può fare in tempo reale attraverso la potenza computazionale di un computer cioè quando io vado in streaming apro il software e gli dico mi fai un chroma key e lo sta facendo in tempo reale lo sta computando senza il render necessario di solito a creare il file video lo gestisce attraverso la potenza proprio di calcolo che adesso è sempre più importante ma soprattutto il fatto che come sempre la necessità porta a ricerca questo mercato si è sviluppato la piattaforma web è diventata sempre più globalmente importante e ci sono stati degli investimenti per raggiungere questo risultato e infatti io penso a un futuro un po' più remoto metti in caso 15-20 anni in cui sarà sempre più come citavi tu preistoria il pensiero di dover lavorare per creare un chroma key o qualcosa del genere sarà gestito da intelligenze artificiali e ti sentirai mi sentirò veramente anziano ma invece tra il verde e il blu c'è differenza? c'è differenza perché sono praticamente opposti ed è importantissimo a seconda della scena che devi creare devi andare a scegliere il tuo chroma se hai per esempio delle piante nel set e non puoi mettere delle piante blu quindi a quel punto metti il blue screen con le piante naturalmente crolofiliane verdi ah ok ok avevo visto una volta uno speciale su Mandalorian mi ero intrippato di Mandalorian e avevo vissuto tutta la serie e poi mi ero guardato un po' dietro le quinte gli effetti speciali e pensavo avessero fatto una roba alla Avengers con questo mega chroma tutto verdoso e li mandavano in giro Harry Potter invece no loro usano questi ho visto hanno dei set pieni di questi led dove proiettano di fatto le immagini e sentivo che spiegavano che così non hanno gli attori il riflesso verde o blu o queste cose qua e tu vedi in tempo reale quello che c'è dietro e quindi insomma ma molto colpito e poi lo riutilizzano questo set per poi gli altri film mi sembrava molto anche questo si sta sviluppando un sacco e adesso è tanto tempo che non seguo il cinema da quel punto di vista professionale perché ormai la mia vita è altrove però le cose stanno cambiando anche lì lo stesso concetto di avere una capacità di tracking della camera così evoluta attraverso un set costruito apposta 30 anni fa non c'era e tutto cominciato in maniera molto importante per esempio con Lords of the Rings con Lords of the Rings quello è stato uno step forward importantissimo in quello che è la tecnologia cinematografica e la cosa non si è fermata adesso a volte come è capitato con Avatar hai dei render in tempo reale che ti fanno una sorta di storyboard che puoi osservare attraverso il monitor della camera già con dei modelli agganciati al motion capture cioè tanto che in realtà è una delle discussioni più interessanti che si stanno facendo che comunque non avranno concretezza per tanto tempo è fino a che punto gli attori saranno superiori a una CGI completa è lo stesso discorso del per esempio nell'aviazione fino a che punto un pilota umano sarà superiore a un'intelligenza artificiale e si entra nel gioco dell'esperienza dell'istinto del calcolo l'etica è un universo infinito però la tecnologia siamo allora internet esiste da dopo la nostra nascita di parecchio quindi implica che noi siamo stati partecipi a uno dei più importanti cambiamenti della nostra specie nelle migliaia di anni cioè l'esistenza di internet e la comunicazione globale ha cambiato per sempre l'umanità noi siamo una nuova pre-istoria da alcuni punti di vista quindi tra 300 anni se siamo ancora qui come specie avremo qualcosa che forse è difficile immaginare perché saranno cambiate tante tante cose è figo è tutto cioè a pensare alla velocità la iperbole che costruisce la tecnologia digitale con quello che è l'esperienza umana come animale però tra 300 anni siamo tutti su Marte con Elon lo sai come va a finire esatto con le sue stravaganti lui la di sicuro noi magari ci lascia qua ecco però lui probabilmente probabilmente va su di là senti volevo segnalare alle persone in ascolto che io ti ho mandato una richiesta di quattro chiacchiere nel 2000 non mi ricordo se è 2019 o 2020 e tu mi hai risposto con un ritardo tipo di un anno di 44 70 settimane 72 72 settimane esattamente e questa è una cosa fantastica perché è vero noi siamo a due opposti nel senso che io sono il classico sotto ogni punto di vista nel bene sotto altri nel disastro creativo quindi ho una capacità di concentrarmi in maniera folle su quello che faccio sui mie pianificazioni sul mio percorso ma a livello social a livello imprenditoriale e a livello organizzativo sono un disastro tanto che quel giorno ho pensato ma Instagram ha i messaggi e come funzionano ho guardato dopo anni che uso Instagram ah ma sono emoti emoti emogini niente ma poi ci ho detto principali verificate 72 settimane fa ok gli rispondo però non è risposto questo l'ho già trovato molto positivo potevi anche non rispondere ma te vabbè no anzi mi sono sentito ferme vabbè ok ci provo ciao esisto però devo dire che sono sono anni cioè da quando ho iniziato a fare le mie chiacchieratine così cazzeggiose il tuo nome è sbucato quasi immediatamente per anni poi io diciamo il mondo videogame così non è il mio mondo no quindi lo tratto se si parla però lo tratto se si parla di business di business di fortnite la comunicazione se la cina banna i videogame da genitore cioè ho una quello è il mio taglio però non mi permetto di parlare di una roba di cui non so nulla dal punto di vista dell'utente non sono un utente diretto quindi però ecco il tuo nome è sempre venuto fuori subito non so se sia un bene o male però no penso conoscendo il pubblico come mi vive è sicuramente un bene quindi è una cosa che mi inorgoglisce è dolcissima come in realtà però eccomi sono tuo perché Stefano su youtube dice Monti però cominci a Michele a delegare qualcosa nel suo lavoro per l'amor di dio non sei un delegante io non sono un delegante per diverse ragioni e credo di essere ormai una specie estinta una delle cose che più invidio in assoluto ai miei colleghi è che loro hanno un ecosistema nel quale giunti a un certo punto della carriera dello sviluppo del lavoro hanno la possibilità e la decisione la decisionalità di delegare parte del proprio lavoro quindi editor assistenti ok persino post producer a seconda della necessità io sono ancora la simbolica one man army e in questo ovviamente si crea una situazione nella quale si deve essere volgare non esce mai nulla perché io ho una particolarità produttiva faccio dei contenuti estremamente lunghi completamente post prodotti il linguaggio di youtube il linguaggio video dell'internet di solito non dico che deve essere per forza uno schiocco di dita perché poi la soglia della tensione magari si diminuisce si diminuisce e così via ma quello che faccio io anche per una questione personale non è abituarmi a un linguaggio globale costruire un contenuto che possa essere riconoscibile immediatamente io faccio un video che diventa post prodotto a livello effettivamente molto pesante non dico televisivo perché è completamente diverso anche da quello però è come se fossero video di vfx è tutto animato motion graphic continua montaggio serrato ma sempre con elementi a schermo unici che devi trovare animare bucare e così via questo in un video di due ore e mezza implica a volte molto più di un mese di lavoro perché ogni giorno 8 ore di lavoro al giorno tutto il giorno avanzi se va bene di 7 minuti se sei stato abbastanza capace altrimenti è un po' meno e se dura due ore e mezza e hai intorno altri progetti che magari hai disgraziatamente messo in contemporanea resti in quel limbo in cui la gente pensa che stai lì a fare mentre in realtà stai lì a sudare freddo perché hai 400 cose nell'agenda e il problema è questo devo in futuro assolutamente trovare il modo di delegare almeno le cose in cui non c'è troppa autorialità ci sono dei miei contenuti che sono talmente personali che non è facile anche a trovare un montatore più bravo di me e fare ereditare quel tipo di sensibilità personale e autorale del contenuto ma tutto il resto potrei il problema adesso è invece l'infrastruttura globale di internet perché io sono cresciuto fino al 2014 con il 56k ho cominciato a lavorare con il 56k praticamente adesso ho dovuto trasferirmi perché il digital device italiano è una festa e ho finalmente avuto accesso a una vita diversa ma non basta per permettermi di inviare digitalmente perché altrimenti fisicamente diventa ugualmente lento mi toglierei peto dalle spalle ma diventa ugualmente lento mettere dei file su una chiavetta e spedirli via posta i materiali sorgenti per permettere a un assistente di montarli e quindi ho bisogno della famosa gigabit ho bisogno di andare in un luogo dove posso ispirare di più ma che dimensioni devi trasferire e allora il fatto è questo se si registra un contenuto per esempio come questo con facecam più un gameplay o un materiale direttamente catturato da una console o un hardware non è difficile che un singolo video che poi in questo caso semplice magari una partita si monta in meno di un'ora possa arrivare a pesare tranquillamente 100 giga e 100 giga spediti tramite una fibra mediocre ogni giorno 5 volte se registri tanto diventa purtroppo controproducente e si annulla se invece hai qualcuno in un ufficio hai affittato un locale hai qualcuno vicino lì e siete in intranet o con gigabit già lì durante la notte glielo mandi e il giorno dopo lui lavora ma tu stai già registrando ad altro il problema grosso di essere one man army al di là dei progetti mastodontici giganti è che se io decido ok stavolta finalmente posso fare una cosa semplice devo soltanto creare l'intrattenimento il contenuto in cui io faccio un'esperienza quindi videogioco d'accordo questo titolo quanto potrebbe durare 80 ore registro quanto 6 video al giorno ok sono circa 9 ore di contenuto devo montarle se devo montarle significa che il giorno dopo non farò 6 ore cioè 6 video mi dovrò fare 3 così poi si annulla e il giorno ancora successivo diventano di nuovo 6 però è un e quindi senza assistente così è difficile io guarda diciamo ho avuto questo problema da diciamo da prima di diventare imprenditore avevo la mentalità del libero professionista non ti tocco neanche l'argomento dei video perché io voglio dire cioè per me è stata molto facile la scelta non so montare sì ho montato all'inizio i video perché mi divertiva ma cioè se non sei capace chiunque è più bravo di me quindi diventa molto semplice la decisione però quando ragionavo dal libero professionista pensavo sempre che io ero comunque più bravo a fare non so se dovevo fare un sito ci mettevo molto molto meno a farlo io cosa registra dominio fai mon e quindi ragionavo sempre sul fatto che io ero più bravo degli altri non potevo delegare eccetera poi la verità è che mi sono reso conto di due cose così te la butto lì come riflessione la prima è che è un fatto di qualità di vita cioè se tu vuoi avere una vita e inizi a avere i figli cose come fai a far tutto non puoi far tutto e quindi sei obbligato a delegare alcune attività e allora ho iniziato a fare la lista delle attività dove pensavo ecco dove sono più bravo me le tengo io dove sono meno bravo le delego mi sono reso conto che praticamente il 99% dell'attività c'è gente più brava di me e quindi ho detto ragazzi a questo punto delego la stragrande ecco è assolutamente vero anche perché indipendentemente dall'esperienza che posso avere nel montaggio video nella post produzione e così via se escludiamo le opere puramente autoriali se io dedico la mia vita a questa professione chiunque abbia continuato nel percorso di montaggio eccetera è ovvio che ti supera istantaneamente e magari appunto trovarne che ti possano creare un ecosistema hai una riflessione sacrosanta è vero è proprio vero è un punto è un punto in cui prima o poi però hai persone che invece decidono di cioè per dire adesso mi viene in mente Fabio Rovazzi prende e si monta i suoi i suoi videoclip ok potrebbe anche delegare il montaggio invece però puoi tenere una parte magari centrale però quello che vedo è che alla fine dei conti la delega è proprio un fatto è un fatto mentale non è un fatto reale quando entri nel se tu sei immaginati che sei obbligato cioè oggi registri e e poi ti ti bloccano in lockdown senza niente e tu devi uscire e allora col punto dici oh per favore bonti il video e dirai minchia verrà una merda e non sarai contento però ti renderai conto che è meno merdosa se hai la persona giusta e una volta la giusta di quello che immaginavo e ti sblocchi da quella situazione è vero senti su qui c'è Oliver Ken94 che è il suo nome vero secondo me è proprio il nome vero di Oliver dice Sabacco è veramente un professionista del settore uso Twitch solo per seguire lui praticamente e questa è uno dei grandi complimenti per chi però non ti conoscesse al di fuori diciamo del mondo naturale certo sì come diciamo come ti introdurresti se dicono ciao che mestiere faccio che cosa faccio ok in breve parlo di videogiochi per grandi ma non sto parlando di erotismo o d'altro sto riferendomi al concetto di come ne comunico esatto per adulti intendo dire anche i ragazzoni i ragazzi che si appassionano particolarmente ossia non sono il videogiocatore che fa dell'intrattenimento soltanto il videogiocare in maniera da amico sul divano bensì mostro un approfondimento passionale dell'industria del videogioco e di quello che è affrontare proprio il medium in maniera si dice hardcore quindi da qualcuno che lo apprezza oltre il gamepad ossia ma come si è sviluppato questo videogioco che cosa è successo dietro le quinte come funziona il game design ma questo level design è buono non è buono che cosa giustifica una cosa definibile buona o non buona e contemporaneamente tutta questa conoscenza come si interfaccia una volta che hai il pad in mano come ci si diverte a essere adulti che videogiocano con questa verticalità nel gameplay e quindi fin dall'inizio quando ho cominciato a decidere a essere anche spinto da chi mi voleva bene a iniziare un percorso appena ottenuta la scintilla della fibra ma della connessione che inizialmente era satellitare dopo il 56k è stato il fare e altrimenti non sarei stato qui perché io ho questa forma mentis fare una ricerca su quello che era inizialmente youtube in italia che io nella mia totale ignoranza e completa novità della stare sul web con una capacità di aprire le pagine senza metterci 40 minuti a 0,4 kb al secondo è stato chiedermi ma c'è qualcuno in italia che fa video perché io ero talmente mentalmente infantile in questo e ho scoperto un mondo incredibile nel quale però sorpresa per me folgorante visto che stavo già iniziando a darmi un'occhiata intorno a livello invece internazionale distinto sono andato subito sull'ampio poi ho fatto la microscopia ma 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 manca ma possibile che non ci sia nessuno che parla di videogiochi in quel modo se c'è qualcuno non faccio niente non c'era nessuno ma tocca provo perché se ci fosse stato qualcuno che ritenevo valido a parlare seriamente del videogioco poi non è che ho trovato tutti non sto dicendo che c'era all'epoca erano tutti scemi ma erano un contenuto soft di divertimento e intrattenimento che possono anche essere qualitativamente superiori a qualunque analisi critica a qualunque divulgazione mi riferisco proprio alla mentalità ma io vorrei vedere una cosa del genere a questo punto come faccio a lavorare in maniera tale che mi vorrei vedere e ho cominciato e sei partito ed eccoci qui un passo indietro tu che cosa hai studiato diciamo a scuola qua qui si apre un argomento che secondo me è preziosissimo ma per cominciare io ho vissuto la classica evoluzione tecnologica informatica della scuola italiana con il liceo scientifico PNI che era piano nazionale informatica nel quale tu da piccolo pensi adesso mi posso introdurre in un universo in cui mi verrà insegnato qualcosa quando in realtà in quelle stanze in quelle aule ti spiegavano che se premevi il pulsante il pc si accendeva ma non potevi andare troppo oltre altrimenti gli altri si spaventavano è stata un'esperienza dove l'hai fatto in che posto del mondo Bracciano a Bracciano ok su un lago di Bracciano praticamente era vicino era vicino però è stata un'esperienza abbastanza dolce perché avevamo noi appassionati di pc anche da ragazzini da bimbini una situazione nella quale se cambiavi il nome alla cartella era un vi ho insegnato qualcosa non è proprio il caso però successivamente visto che stavo sviluppando da prima del liceo una spiccata passione io mi sto riferendo proprio a una passione al di là del videogioco perché io videogioco da prima di camminare bene mi hanno dato una console in mano i miei genitori vedendomi interessato a luci e colori fin da bambino hanno notato subito che mi ci agganciavo con un certo interesse quindi io dai quattro anni e mezzo in su ero già incredibilmente ovviamente incosciente ma incuriosito ma dai sette otto ho subito chiesto a mio padre non tanto il come si gioca ma il come fa a muoversi il il pazzetto perché è così bello i pixel i colori l'animazione e da lì infatti ho subito iniziato a leggere ad approfondire e così via per questo ho cominciato un po' già sparato no ho costruito una carriera sul videogioco da autoridatta perché i videogiochi tirano per dirla breve tuttavia visto che era impossibile virtualmente almeno sotto molti punti di vista specialmente senza internet non parliamo di questo lavorare nel mondo videoludico la mia passione si sviluppò anche nella cinematografia nella post produzione video e nel video editing il montaggio quindi una volta finito il liceo scientifico ho chiesto in giro cosa posso fare per trovare una posizione professionale in questo universo e dei consigli che hanno portato a cose buone e a cose cattive perché il consiglio è giusto è stai molto attento non fare l'università perché questo è un ambiente nel quale se non entri subito in un giro in cui metti le mani in pasta la cultura cinematografica ti rallenta e ti fa perdere delle occasioni raggiungi un'età nella quale sei sicuramente più consapevole della storia del cinema e di come funziona quest'arte ma non lavori più se vuoi raggiungere certe categorie di tecnico ok oppure lavori però magari non sei stato abbastanza sul pezzo poi dipende dalle esperienze e altro che ho anche persino avuto un'esperienza in cui ho insegnato in una scuola di cinema è sacro santo darle la massima importanza e farla infatti io poi dopo aver lavorato sono entrato in una e l'ho fatta posteriormente tuttavia sono stato preso sotto un'ala ho studiato quello che potevo fare attraverso la messa in pratica dell'essere lo sfruttato italiano per anni senza prendere una lira ed è tutto quello che fa non hai fatto l'università e ti sei buttato subito nel mondo montaggio bibio eccetera subito nel mondo ho lavorato sono stato sfruttato ho imparato ho trovato persone buone persone cattive mi hanno insegnato anche a vivere ossia tutti cercheranno sempre di fregarti in qualche modo impari un po' a vivere a crescere lentamente perché se sei una persona particolarmente buona hai fatto le fotocopie sì però però in realtà si è arrivati al punto nel quale sono diventato indispensabile perché ero un piccolo studio e ho cominciato a prendere consapevolezza dopodiché ho visto che comunque l'ambiente italiano di televisione e cinema è molto particolare chiamiamolo particolare è molto conforme a Boris se lo hai vista la serie è molto molto vicina a quella realtà c'è parodia abbastanza da Real TV e ho poi sono tornato a studiare per specializzarmi nella post-produzione di WFX alla Gian Maria Volontè quindi ho fatto due anni di studio cinematografico e poi di full immersion in WFX ho avuto la soddisfazione e l'enorme piacere di avere ottimi risultati sono stato assunto inizialmente come stagista in Technicolor non ho fatto in tempo finire il periodo di stagione pensavo che Technicolor fosse ormai come dire un nome epico non esistesse neanche Technicolor e in realtà persino quando mi ci sono avvicinato era emozionante sentire Technicolor perché è quella cosa che ti appare nei crediti dei film e pensi che sia o una vecchia tecnologia che riguarda all this round non so esatto però in realtà è uno studio importantissimo internazionale di post produzione che fa lavori super interessanti che pochi conoscono come per esempio il versioning si chiama il versioning è un lavoro che risuonava tantissimo nelle mie corde è un incantesimo che è anche parodia dell'industria che cos'è il versioning quando tu vai a vedere un cinema un film importante al cinema mettiamo per esempio faccio un esempio che utilizzo spesso Frozen che è il mondo di ghiaccio che è il regno il regno di ghiaccio tu vedi questa titolazione in 3D che si anima con le stalagmiti le stalattiti di ghiaccio che si muovono e appare il regno di ghiaccio questo succede perché qualcuno all'interno di uno studio ha preso il titolo originale e vi ha aggiunto un sottotitolo italiano con quella stessa realizzazione grafica estetica di shading animale è perfetto come funziona il fatto è questo in un universo normale senza che ci siano competizioni industriali e un ecosistema così delicato si immagina che Pixar Disney prenda il progetto del 3D artist e di tutti i colori i quali hanno elaborato quell'animazione te la invino attraverso un documento sicuro e preciso allo studio europeo italiano che sia per creare le varie lingue e riprodurre cambi le scritte cambi le scritte e hai creato l'animazione no non funziona così ed è una cosa che trovo contemporaneamente super affascinante e ridicola ma è così che funziona perché è praticamente segreto quello che hanno fatto nello studio ufficiale originale tu non hai il permesso non puoi permetterti di vedere il loro lavoro originale e quindi loro ti dicono fallo se vuoi ti diamo la foto e il font forse ah quindi il versioning è uno studio che fa retro ingegneria di effetti già fatti è bellissimo perché tu vai lì e devi essere perfetto al fotogramma e passi le tue sessioni di lavoro a riprodurre il ghiaccio la forma lo stile l'animazione tutto da zero ed è super affascinante quello che poi accadde che appunto non feci in tempo a finire il periodo di stage che ha chiuso ha chiuso Technicolor perché non era più nell'interesse l'Italia come luogo di creazione va bene grazie grazie quindi a casa e che hai fatto e quindi a casa avevo già iniziato da poco questo percorso in cui avendo finalmente una connessione ho cominciato a produrre qualcosa che si basava sulla mia passione di vita di sempre quindi non il parallelo di editing e video bensì il videogioco come universo completo che però includeva tutta l'esperienza fatta dal passato perché io a differenza di tanti colleghi non sono partito dicendo ok mi scarico un programma gratuito e vediamo se riesco a fare un video io sapevo già come si monta costruisce un video e così via la mia mancanza di esperienza era nel pormi nell'esserci nel saper comunicare a una telecamera e così via ma una cosa che ha stupito tanti ragazzi e che ha stupito a mia volta perché lo davo per scontato che dovesse essere così cosa che mi ha fatto sempre sorridere è che nel mio primo video sul web il mio primo video su youtube che non è proprio il mio primo video sul web ma il mio primo video su youtube ho parlato con zero visualizzazioni a un pubblico preesistente perché io so che la piattaforma sapevo che la piattaforma youtube è pubblica perché dovrei parlare a un caro diario è evidente che se anche non c'è nessuno che guarderà questo video la piattaforma di riferimento è pubblica e allora io già parlavo a un pubblico anche se non c'era quindi poi quando c'è stato retroattivamente funziona in questo modo retroingegneristicamente hanno fatto il versioning della tua esattamente e quindi ovviamente avevo fatto finalmente un po' di visibilità all'interno del mondo di post produzione a Technicolor c'erano delle persone meravigliose dei professionisti divini di cui tra l'altro ci sono anche individui che hanno vinto premi importanti e che attraverso i contatti perché è sempre quello nel tricolore non c'è chance mi hanno permesso di trovare un altro posto solo che quel posto era l'apoteosi professionalmente bellissimo però era l'apoteosi del lavoro di post produzione in Italia tu arrivi con delle prospettive con un'immaginazione di quello che potrebbe essere lavorare anche 12 ore al giorno su appunto il rotoscope di un orecchio di un protagonista per fare un movimento che poi ci si agganci un anello un orecchino 3D ma in realtà si tratta soltanto di pulire pellicole sporche correggere i nei delle attrici e fare questo in un ambiente comunque molto 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 industriale talmente tanto industriale che ti senti e può essere affascinante sotto alcuni punti di vista in Technicolor era la stessa cosa ma mi faceva innamorare ma ti senti veramente un ingranaggio ininfluente e a quel punto stavo cominciando ad avere una piccola scintilla di following una piccola scintilla che mi dava l'opportunità di pensare potrebbe funzionare se avesse il mio 100% e col mio carattere e il mio modo di vivere ho fatto una delle scelte più difficili di sempre ossia licenziarmi cioè avevo ha chiuso ho fatto un percorso di ricerca il mio sogno ha chiuso il mio sogno secondario perché il videogioco è sempre stato al primo posto ma era impossibile lavorare nel mondo dei videogiochi in Italia senza chissà cosa il secondo posto mi stava facendo sentire proprio morente cioè mi stava spegnendo come una candela mi sono licenziato e sono andato in full immersion sul progetto youtube ok intanto scusami mi segnalano che nei commenti che twitch è stato hackerato pensavo fossero dei fake comments ma invece stavo guardando è vero ho visto prima di riconnettermi ho visto che c'è stato un leak di pazzesco vedremo come se lo gestiscono ok è un periodo di leaking su facebook con la whistleblower che ha depositato ha depositato ha fatto come si dice in italiano ha fatto la deposizione la deposizione davanti al senato ieri insomma è chiarissimo ma quando ti sei licenziato a quel punto hai detto posso campare di sta roba e oggi tu diciamo campi di video online o campi di collaborazione o non per farmi i fatti tuoi ma per capire è un piacere è bellissimo parlarne infatti ormai cominciamo a vivere un mondo nel quale anche in italia che in certe cose è parecchio acerba e testarda in questo anche qui comincia a essere tutto molto più naturale che cosa voglio dire che quando ho deciso di licenziarmi ho prima parlato con i miei genitori dicendogli non sono ancora autonomo ma vedo che c'è la possibilità di diventarlo concretamente visto il percorso che avevo fatto non proprio da scansa fatiche mi hanno supportato molto importante quel momento adesso sono completamente autonomo e caratterialmente sono sempre stato molto io testina a essere come ti dicevo poco fa non imprenditore questo cosa significa che sono talmente incapace e non volontario ad andare a bussare alle aziende per creare collaborazioni sponsor e operazioni commerciali che mi sono affidato dopo tanti anni dopo tante discussioni perché avendo 30 anni e non 14 con il successo che ti ha esploso ho una consapevolezza diversa dopo tante discussioni mi sono affidato a un management perché ho detto ragazzi prendetevi la vostra percentuale ma se dovete trovarmi un lavoro fatelo voi io non sarò mai in grado perché io sono il creativo e infatti faccio veramente poche operazioni commerciali a livello di sponsor a livello di soldini che entrano dall'esterno pochissimo perché sono concentrato sempre altrove e soprattutto c'è una cosa molto importante questa è fondamentale apre una scintilla che cercherò di rendere breve ma che in realtà è gigantesca e potrebbe essere una live a sé stante pensa quando macroscopica sia la situazione ossia tra le mie forme di contenuto una delle più importanti in assoluto è critica videoludica quando fai critica videoludica è estremamente importante e fonte di una serietà necessaria non fare di tutta l'erba un fascio tu non puoi pubblicizzare ciò che poi critichi è eticamente professionalmente scorretto sia nei confronti del pubblico che richiede una quanto più oggettiva sincerità da parte tua che ti rientra poi nel filtro soggettivo del critico che è importantissimo ma che deve essere assolutamente intonsa sia da parte si presume dell'azienda che ti sta pagando perché se ti paga un'azienda e tu vai lì soltanto per approfittarti del fatto che ti paga ma la critichi comunque per fare il dispettoso e il libero il populista sei doppiamente sporco quindi ovviamente il 95% delle possibili operazioni commerciali del mio lavoro scompaiono diventa tutto molto più difficile tuttavia allo stesso tempo entra in gioco una cosa interessantissima del nostro paese e del mondo a livello videoludico ed è una cosa che è affascinante ossia non esiste il pezzo di carta che ti offra una concretezza ufficiale della tua capacità e legittimità di critico videoludico non è come il cinema nel senso che anche i più importanti siti del mondo italiani europei globali non hanno nella critica nei professionisti al loro tetto nel loro ruolo qualcuno che ti può dire ti sbatte in faccia un pezzo di carta che ti dice io ho la competenza di fare quello che faccio tutto deriva ed è una cosa che io trovo di un fascino pazzesco ma porta spesso a alti e bassi ti porta a dover utilizzare la tua capacità di analisi che devi sviluppare o avere o comunque allenare sempre la tua cultura e studio mai smettere di studiare mai smettere anche una volta sono arrivato no non sei arrivato il videogioco cresce veloce ed è un'opera è un'arte molto complessa molto tecnica e quello che è l'esperienza generica di tutto ciò che hai fatto un continuo mettere come un castello lego qualcosa sulle spalle ed è interessantissimo infatti tutto nasce anche da come il pubblico poi percepisce quel tuo comportamento quella tua analisi e si hai dato a loro un servizio importante un servizio utile e quindi è molto molto interessante però sul fatto delle collaborazioni ti faccio due riflessioni la prima è che in realtà oggi con questo mondo diciamo della creator economy tu hai una community di persone che ti apprezzano non ti apprezzano quindi questo per me è l'aspetto principale sì è vero e tu hai un sacco di persone che veramente apprezzano quello che fai e stimano e questo prescinde dal pezzo di cart assolutamente quindi da quel punto di vista oggi le community sono sono pronte a supportare se gli dai uno strumento dove uno può banalmente dire guarda mi abbono pago un tot al mese e sono parte della tua community e ho qualche cosa da questo rapporto a quel punto hai un sacco di persone che sono disponibili l'altra cosa è che sulle aziende io peraltro diciamo non sono per niente creativo ma ugualmente faccio pochissime pochissime collaborazioni con le aziende e il motivo è che comunque sai se tu hai voglia di dire cazzo che vuoi hai quel problema lì che io per dire non accetto neanche i regali delle aziende mi chiamano aziende dicono ti mandiamo no per poi si non accetto regali però ugualmente hai dei canali ad esempio di recensioni non so Mark Brawley che fa recensioni cellulari di tech in generale è molto stimato è molto credibile però parla di tutti e ha anche un sacco di collaborazioni dipende quali sono le linee guida esattamente hai delle aziende che per collaborare con te dicono guarda fai quello che vuoi esattamente e basta però l'importante è che mi associo a te è così che si fa per esempio i siti di videogiochi come fanno denaro per poter andare avanti e sfruttare la loro visibilità mettono dei giganteschi poster dietro del videogioco del momento che poi venga pocciato o meno non importa non vai inficiare la loro capacità critica però intanto ha la pubblicità dietro questo è un esempio quello che accade nei miei confronti di tanti colleghi è appunto proprio quest'altra realtà ossia una volta che hai la posizione di potertelo permettere dici io ti vendo il mio spazio io ti vendo la mia diretta di due ore non devi occuparti di ciò che c'è dentro io non ti mancherò di rispetto i ragazzi sapranno che è spazio acquistato ma non non è uno spot io con il mio personaggio che poi se ne deve parlare perché nel mio caso non esiste ma nel mio personaggio nel mio ruolo giocherò e approfondirò quell'esperienza questo è un esempio importantissimo di come si può affrontare la cosa ma una volta fatto quello a volte si auto escludono altre conseguenze di contenuto cioè è molto delicato ma anche molto interessante ed è un mondo che continua a cambiare ovviamente sì a me piace molto ad esempio il tema NFT da questo punto di vista io lo trovo rivoluzionario sia per la monetizzazione per i creator ma anche immaginati ho visto questo questo podcast che ha venduto un NFT con 5 minuti di visibilità all'interno del podcast ok quindi tu dici compri questo NFT e hai 5 minuti di visibilità nel loro podcast seguendo delle linee guida chiaramente non puoi arrivare a parlare di A, B, C di robe illegali eccetera ok però la cosa interessante è che a quel punto è molto diverso che vendere una pubblicità così come si fa normalmente perché A l'NFT lo compri ad asta quindi hai persone che danno dei valori diversi B uno può comprare l'NFT e dire guarda Sabacco tra un anno è magari molto più visibile a un audience maggiore quindi io lo tengo e lo uso tra un anno oppure lo rivendo e se lo rivendo tu hai uno smart contract e hai una royalty alti su quello cioè è ad esempio un meccanismo interessante questo è un esempio stupido e banale però pensa avere degli NFT questo non ho nessuna conoscenza l'NFT per me è un universo di cui sono terribilmente ignorante quindi mi affascina di te ne parlare ok è bello diciamo un settore interessante al solito sai oggi uno dice cripto allora uno dice eh le truffe la gente non capisce un cazzo ma non entra nel merito invece per dire gli NFT non sono solamente dei collectibles per vendere il crypto punk o l'opera d'arte puoi mettere anche dentro delle utilità se io ho l'NFT tuo io lo comprerei subito magari posso con quell'NFT partecipare a un evento se fai un evento avere un tuo libro se fai un libro essere parte di 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 una di un di un momento di di gameplay ci sono anche cioè puoi avere tante declinazioni quindi è figo ecco però è poi scambiabile quindi su marketplace uno può prendere rivenderlo e quindi la community non spende ma investe su di te in sostanza questa è un po' l'idea sei fatto in modo etico e corretto però è solo per dire che ci sono tanti strumenti secondo me che a quel punto ti 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 tolgono il problema che tu sia commerciale o meno capito una volta che hai creato tu fai il comestiere tu sei crei fai e basta quella roba va avanti eh a prescindere che è secondo me una cosa importante davvero ok quello è figo senti ma la Cina che ha messo questo ban me ne vuoi parlare un attimo la Cina è la Cina nel senso che se ne può parlare tantissimo è un universo che noi percepiamo come lontano perché è nell'est ed è come una barriera culturale invalicabile però allo stesso tempo è gigante controlla molto ed è presente sempre in tutto quello che ci circonda questo ban è praticamente una solita estremizzazione molto delicata di qualcosa che di base magari nasce anche da un pensiero che non è del tutto autodistruttivo perché il ban è per l'online non è per il videogiocare è per il videogiocare online ed è una forma ultra eccessiva e inumana nella gestione ovviamente perentoria dell'evitare una totale assimilazione dell'universo online da parte di in questo caso si potrebbe dire persone che dovrebbero diventare produttrici dovrebbero lavorare fare qualcosa però lascia il sentore classico che si discute anche da noi in occidente spesso di come ora perché un tempo non era così ora che ci sono questi videogiochi che si chiamano game as a service i game as a service sono una forma di produzione molto interessante molto comoda per le aziende dove tu spendi 10 ma vuoi guadagnare 10.500 ossia fai un videogioco che ti costa un tot e a differenza di quello che era la produzione degli anni 90 nei primi anni 2000 in cui hai la release delle espansioni si sono pianificate e il gioco è andato bene poi muore e è finita è come andare al cinema e aver venduto il blu ray hai invece una produzione che nasce ed è open minded praticamente è una piattaforma tu vendi una piattaforma dove continuamente mensilmente semestralmente costruisci nuovo contenuto nuovi obiettivi nuovi traguardi qualcosa che ti faccia sentire investito nel titolo ci sono dei videogiochi che per esempio fanno questo in maniera eccezionale per niente perniciosa o comunque sporca che ti faccia cadere in un loop come per esempio un videogioco che si chiama Monster Hunter World in cui cacci dei mostri come cacciatore in un mondo fantastico fantasy e ti vengono aggiunte creature equipaggiamenti obiettivi ed extra che nonostante sia principalmente single player quindi tu vai di base a cacciare da solo in un titolo che non è multiplayer massivo cioè quindi non hai un universo tempo reale con decine centinaia migliaia di giocatori nello stesso posto hai comunque quelli che si chiamano login bonuses cioè praticamente accendi la console fai partire il gioco e ti prendi un regalo questo è il classico meccanismo che ti fa pensare devo andare devo loggare e se loggi magari giochi un po' per loro questi dati sono importanti poi in realtà appunto Monster Hunter lo fa in maniera talmente pura che se tu non loggi il giorno dopo te li da doppi cioè di solito non è così ovviamente perché loro sono dei signori però questo causa specialmente se e qui entro in un campo in cui non metto bocca perché è competenza totalmente diversa dalla mia e si entra più nella psicologia ma noi non siamo nati non sono cresciuto con la possibilità da bambino di connettermi a un mondo reale vivo di giocatori e compagni nemici e bulli digitali cioè avevo il mio universo dentro la scatoletta magica qui invece hai appunto l'hai citato prima tu Fortnite in cui hai un universo di qualità estremamente alta costantemente pieno di input e di aggiornamenti lì effettivamente puoi esagerare tanto puoi esagerare tanto e distrarti dal resto e quindi sì magari non devi fare il ban della Cina però tenerlo d'occhio un minimo senza il classico come dicevi tu stesso prima pensiero retrogrado e preoccupato di chi non cerca come con le cripto io neanche ne conosco però non è che gli ha appunto il dito dico è affascinante ma chissà che cosa rappresenta occhio ma senza essere il il marameo bisogna stare attenti comunque io vivo diciamo da tanti anni nel mondo tech così no in generale da non solo da diciamo da utente ma da 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 attivo lanciatore di progetti digitali ok che magari spesso falliscono però start up robe quindi è un mondo dove per tanti anni anche sono stato diciamo un tecno evangelista no perché quando tu devi diffondere le opportunità di un mondo ogni volta c'era sempre l'eccezione ecco internet sono solo le truffe sono cagate quello che vedo oggi ti faccio l'esempio ieri di di facebook c'era la testimonianza della whistleblower che ha detto quello che si sa già non è che bisogna scoprirlo adesso no è il fatto che il feed è fatto per fare utili no e quindi questo ha una serie di danni e premia l'engagement e quindi i contenuti di merda vanno virali alla grande se invece fai un contenuto più di qualità chi se ne frega insomma solite cose che si sanno già il problema che vedo è questo secondo me che quando uno affronta un argomento oggi è sempre i buoni e i cattivi facebook adesso è il cattivo basta se noi risolviamo il feed di facebook risolviamo i problemi della società non è così no e allo stesso modo videogame lo dice ah videogame buoni e cattivi e io voglio dire da genitore vedo mille problemi mille cioè ne vedo ogni giorno non capisco ad esempio perché deve essere una roba che crea sempre conflitto no quando dici ragazzi e inizia il panico inizi devi sempre litigare e dici ma perché il videogame deve essere una roba così dove io e i miei figli dobbiamo litigare e allora dopo un po' odi videogame da quel punto di vista però forse ecco si è persa la capacità di tenere in contemporanea una valutazione dei pro e dei contro no di ogni argomento e quindi devi trovare un giusto bilanciamento invece vai secco o in un modo o in un altro o è fantastico o è una merda e questo è qualcosa da cui non si scappa e viene sempre più occupita giorno dopo giorno la pandemia non ha aiutato sono diventati tutti isterici dieci volte tanto ed è sorprendente perché appunto tu parlavi dei figli dei più piccoli tendenzialmente questo porta qualunque adulto a fare la stessa cosa a regredire completamente ed è un peccato terribile però si non esiste il grigio si non ci sono più le mezzo stagione si è vero ma abbiamo detto la cosa da vecchio hai ragione senti dimmi che cosa vedi di trend del mondo dei videogame c'è qualcosa di particolarmente interessante che vedi in questo momento o che su cui stai parlando di attento allora in questo momento il mondo videoludico sta passando contemporaneamente una voglia evolutiva pazzesca e una crisi di mezza età perché la voglia evolutiva è quella che sta per esempio mostrando Microsoft con il Game Pass con il Game Pass questo sfruttamento estremamente avanguardista del cloud del permettere di giocare ovunque qualunque cosa indipendentemente dall'hardware ci ha provato Google con Stadia è un'evoluzione che porterà si presume con tutto il malaugurio dei collezionisti degli appassionati del fisico alla scomparsa del supporto digitale come il DVD il Blu-ray o le cartridge ok si arriverà a un certo punto in cui forse scomparirà persino l'hardware tu non avrai la console avrai l'accesso alla render farm di X azienda quindi questo è il momento dell'avanguardia dell'esplorazione della novità del trend del momento perlomeno lato evoluzione azienda ma allo stesso tempo e un videogioco uscito di recente che si chiama New World ne è assolutamente esempio perfetto c'è questa ricerca e assolutamente estrema monetizzazione che funziona ma funziona anche su di me senza ombra di dubbio della nostalgia visto che molte cose sono cambiate molti generi si sono massificati nel bene e nel male diciamo che abbiamo passato dal 2006 al 2011 un'epoca nera del videogioco con delle ovvie eccezioni se ne possono trovare anche più di cento però tra migliaia e migliaia di videogiochi non è facile esserne completamente soddisfatti in cui il gaming era diventato nel tentativo di massificarsi quanto più possibile molto meno interattivo quando dovrebbe essere la sua prerogativa principale quindi era tutto molto guidato molto cinematografico molto scenico ma poco giocoso poco legato alla capacità e all'interazione del giocatore nei confronti di ciò che accade su schermo poi si è tornati quindi non stiamo vivendo un'epoca buia in cui il videogioco non è buono non ci sono nuove idee non è vero però allo stesso tempo adesso sta andando da un bel po' un sacco in voga il concetto di da una parte salvaguardare i vecchi software con le remaster quindi riproporli di nuovo non più in obsolescenza perché a differenza dei formati cinematografici il videogioco gira su un hardware quindi se quell'hardware non è più poi attivato dalla retrocompatibilità dei successivi non puoi avere modo di giocare quel videogioco quindi devi rimasterizzarlo per le console più recenti quindi da una parte fai salvaguardia del software a livello proprio storico ed è importante un po' come le pellicole salvate nei film ma allo stesso tempo vai a monetizzare e vai a catturare l'attenzione di chi rivuole quell'esperienza la rivuole la vuole rivivere magari più bella di prima con invece i remake in cui ricostruisci quello stesso videogioco ma lo reinterpreti per il gaming moderno che appunto non è tragico ma è lo stesso videogioco quindi insomma l'esperienza è quella che mamma mia quanto mi mancava New World è questo riferito agli MMO a quanto io non l'ho ancora provato perché appunto MMO Completa Full Immersion in un mondo digitale in quale vita nel senso è difficile trovare il tempo salvo che tu lo faccia per lavoro ma non è il mio obiettivo se tu lo fai per lavoro e riesci a vivere attraverso la condivisione dell'esperienza come fanno tanti su Twitch per esempio appunto lì lo puoi fare altrimenti arrivi il momento nel quale sì lo fai di notte tra una giornata di lavoro e l'altra ma hai scelto e questa è un'altra chiave di lettura del mercato hai scelto New World quello che fanno le aziende è cercare in tutti i modi di farsi scegliere perché quando hai titoli come questi as a service uno ne puoi scegliere uno cattura la quattro ma poi sta dietro a tutti e si fanno la guerra così che crea saturazione del mercato e che crea quindi anche un appiattimento e caos perché ce ne sono troppi e al di là di quelli che arrivano in cima come per esempio appunto in MMO come Final Fantasy XIV questo New World Warframe adesso sparo nomi per chi li conosce in chat però ecco si tratta comunque di una guerra fredda in cui sanno che l'utente 1 sceglie il gioco A l'utente 2 vorrebbero scegliere se è sempre A ma magari sceglie B e quindi è così quindi sono questi trend da una parte la tecnologia che sta abbandonando il supporto fisico e che stanno cercando di rendere quanto più accessibile possibile cosa che a volte funziona molto bene altre volte per esempio Google Stadia ha avuto grossi problemi specialmente di mancanza di investimento continuo a pensare che Google non ci ha avuto la voglia ed è un gran peccato e dall'altra invece il quanto vogliamo veramente andare avanti quanto tira così tanto la nostalgia certo questo è interessante do un paio di dati al volo visto per gli appassionati di numeri nell'ultimo trimestre Google ha fatturato oltre 60 miliardi di dollari in un trimestre non in un anno in un trimestre e in genere Google chiude progetti che fatturano più di 100 milioni cioè se arrivi e dici guarda abbiamo fatto 100 milioni valiamo un paio di miliardi c'è barbone chiudi non farci perdere tempo e sono talmente grossi che ormai se il progetto non prende subito vedono allora chiudono e vanno infatti io mi chiedo da morire questo è un universo molto lontano da me e ovviamente parlare di queste cifre non è semplice per l'essere umano individuale nel senso che è come parlare dello spazio certo di quello che è l'universo però se tu guadagni in un trimestre 60 miliardi allora perché quando costruisci un progetto come Google Stadia non vi investi perché lo fai per provare senza dare l'opportunità a qualcuno di dire guarda potrebbe funzionare se fate questo se ci investite più soldi è un'usa e getta che non comprende è un gran peccato perché avrebbe potuto avere della bella base però vabbè misteri restando sui numeri avevo una curiosità abbiamo ancora otto minuti ma ero curioso di un paio di argomenti la prima è per sviluppare videogame da qua ai prossimi anni tutti aspetti che si andrà sempre di più nella direzione megabudget come come i megabudget hollywoodiani allo stesso modo megabudget ancora di più per i videogame o prevedi che ci sarà una sorta di democratizzazione anche nella creazione dei videogame dove tu mi metti a disposizione degli strumenti come è successo anche per oggi nel digitale un tempo costava un miliardo di lire fare un sito web oggi chiunque può partire no? poi è ovvio se vuoi fare airbnb è un altro discorso ma dal punto di vista tecnologico hai tutta una serie di strumenti che un tempo costavano un sacco di soldi e ce li hai invece a disposizione lo stesso montaggio video è diventato montaggio video come era lo strumento che si montava in verticale? era la moviola tu avevi la pellicola dovevi tagliare la pellicola a mano e riagganciarla era estremamente elitario come strumento cioè era completamente inavvicinabile tanto che i montatori all'epoca prima che io avessi proprio la capacità di avere la chance di lavorarvi guadagnavano al minutaggio l'ira di dio adesso invece è praticamente al livello quasi schiavitù il montatore video che lavora in grandi aziende per produrre contenuti che poi vanno in televisione sono ormai un universo enorme di utenti e di professionisti che però sono spesso e volentieri sottopagati perché ormai non è più una cosa così preziosa vale per qualunque professione per qualunque cosa lo strumento non è più bisogno di avid ma capito col premier pro di turno ti fai ma anche se anche ma se anche usassi avid sempre per il broadcast comunque la specializzazione ormai non è più speciale ecco mettiamola così invece il videogioco quello che tu proponi è già successo esiste già una democratizzazione che si è sviluppata negli ultimi dieci anni a livello non letteralmente ma molto vicino all'esponente è una cosa numericamente folle tanto che considera una delle cose più divertenti come parallelo è questa quando uscì playstation che tutti conoscono si pubblicizzava moltissimo sulle riviste 500 giochi no? la consola 500 giochi poi playstation 2 più di 900 giochi cose del genere mi pare che nel 2018 su Steam ne sono usciti 8000 la cosa sì la cosa è fuori è fuori di testa completamente di quei 8000 7500 sono a livello monnezza digitale qualcosa che ti ha permesso di produrre la piattaforma o in generale diversi strumenti ma che sono un tentativo casuale di utilizzare asset semi gratuiti per far partire un software che si possa definire videogioco e poterlo vendere quindi esiste questa democratizzazione ci sono già titoli di enorme successo globale nati dal nulla serve comunque un denaro di partenza che ha una certa importanza non puoi partire con 3000 euro e fare un videogioco non si può è un po' come puoi fare un cortometraggio allo stesso livello di quello che avresti con 5000 euro a livello cinematografico ma rimane lì ma già con cifre assolutamente possibili attraverso piccoli investimenti anche di crowdfunding puoi ottenere titoli come Undertale per esempio che ha avuto un successo globale e ha cambiato letteralmente cambiato la percezione dell'indie development a livello pianeta terra e specie quindi esiste questa realtà e contemporaneamente non smetterà specialmente per chi utilizza quel tipo di comunicazione per rappresentare se stessi aka Sony le produzioni ultra costose perché nel mentre appunto abbiamo Microsoft che costruisce un ecosistema numeroso e assorbe aziende per continuare a creare contenuti di budget medio alto per andare avanti in questa idea di democratizzazione totale anche dell'offrire tanto contenuto a chi lo vuole attraverso un abbonamento che ti permette di averli gratis con quell'abbonamento senza dover acquistare a full price il gioco retail quindi il 60, 70, 80 euro per esempio di Sony Playstation 5 mentre hai d'altra parte l'altra sponda completa Sony Playstation che ti fa titoli che ti costano almeno 60, 80 milioni a livello di budget ma spesso poi col marketing raggiungono i 150, 200 milioni e ti vendono il fatto che loro sono quelli che fanno le bombe quindi tutto esiste tutto coesiste come ti dicevo prima non siamo lontani bisogna starci veramente molto attenti non succederà come nell'86 in cui il videogioco implode su se stesso però siamo vicini a una bolla che è tirata tirata cioè la tensione di superficie è molto tirata adesso appunto in questa battaglia in cui spendi cifre astronomiche per fare il game as a service e fallisci cioè un tempo potevi non dico fare i videogiochi in cantina non è come le vecchie riviste editoriali che sono nate dai garage però prima potevi fallire adesso fallire è una cosa che ti porta spesso alla chiusura non dico le major ma le software house si quindi è pericoloso tutti cercano di monetizzare quanto più possibile fino a essere irrispettosi dell'utente perché se non lo fai sei nei guai e allo stesso tempo in altre situazioni come è accaduto recentemente anche con blizzard e così via si cerca invece di monetizzare il più possibile purtroppo anche solo per il gusto di farlo cioè raggiungere la capacità di essere i più importanti i più ricchi aggiungo un dato sulla monetizzazione visto che che l'hai citato l'altro giorno ho letto quanto monetizza Apple rispetto ai principali produttori quindi Apple tramite l'App Store grazie ai videogame ha 2019 credo sia il dato 8 miliardi e mezzo quindi ha fatturato quanto Nintendo Sony Activision e Microsoft combined bastardi stanno fermi con la bella tassa dell'App Store e via quella è un'altra strada se sei Apple lo puoi fare insomma molto bene caro senti è stato veramente un piacere abbiamo applicato uno 0,3% di tutti gli argomenti di cui volevo parlare ma prima o poi faremo un un sequel un bis esatto dai un sequel perfetto terminologia top grazie di cuore grazie a te ci vediamo alla prossima ciao ciao alla prossima grazie a te